capitolo 5, 7, 1 il patibolo ecco proprio il titolo già il titolo già il titolo mi fa il nervoso il titolo il grande protagonista il patibolo è la vittima il grande protagonista esatto è garbleroe il ponte sta crollando fa qualcosa cappelluccio combatto i pirati da molto prima che tu nascessi se vuoi passare di qui dovrai uccidermi rufi cappello di paglia è questa la strada che avete scelto vecchio flashbecchino non essere ingenuo tu diventerai il marin più forte di sempre se la pensi così i pirati ti uccideranno presto calcio nel culo non posso farlo nonno pogliti di mezzo se non puoi farlo allora ace morirà grazie lunotti complimenti grazie lunotti grazie lunotti figlio di dragon lo dici tu vabbè vabbè che sia figlio di dragon è vero il problema è il dubbio può essere se dragon è figlio di garb esatto è quello il discorso no mi rifiuto sono molte le cose che non vanno come vorremmo non mi tratterò rufi io ti considero mio nemico rufi pompa in gear second garb sta per scagliare il pugno ma il pugno dell'amore può essere il pugno dell'amore eh vedo negli occhi del nipote scena di un passato e pensa ad ace adesso temo per la mia vita però vedi è coerente con la frase detta prima io non ho pietà per i criminali ma la famiglia è un'altra cosa eh sì eh sì eh sì garb chiude gli occhi e lui qua vedi che però ha già capito eh sì c'è una cosa l'ha capita prima degli altri il fallimento lui lo avverte quello lo capisce subito esatto c'è la per default esatto quando c'è quella cosa che tu stai già che finirà in merda lui oramai è espertissimo da anni e quindi l'ha già capito lì e patapam lo colpisce sul muso boom boom e garb vola giù dalla scala eh sì piccia il miraglio garb ci pianta in terra a me questa cosa ha fatto sempre morire è piantato proprio in terra con la testa come un chiodo sì dopo tutto anche tu sei un genitore garb eh sì Kizaru e spara a a barba bianca ovviamente un taspilli Newgate proprio in piedi sul bisento imbruttendo e Rufy arriva sul patibolo il cappotto è intero eh se non dicevo palle il cappotto è ancora intero qui ci ricorda Oda la stranzata questa è la chiave delle manette di tuo fratello eh sì eh te la ricordi? ho la chiave ho la chiave aspetta Rufy tu guardate scusa un attimo vai indietro di una pagina quando lui arriva sul patibolo sì c'è il coso lì intero di Kizaru da cappotto da vedere lui arriva lì e appoggia il piede e lì Sengoku e lui era lì che aspettava come lui che aspetta l'autobus non fa niente fermo lì pagina dopo metti proprio la prontetta di di Sengoku lui si è vicino a Deis tira fuori la chiave e Sengoku sta lì fermo fa niente proprio e lui tira uno spintone lo butta giù no no niente 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 guardate l'abilità del grande ammiero Sengoku non l'avevo mai vista fermo non credere che ti lasci fare come di fare a piano ha fatto un cazzo per forza non l'hai mai vista non l'ha mai fatto un cazzo in vita sua come è Sengoku Kizaru oh se Kizaru non la rompeva Sengoku che lì di fianco non muoveva un dito l'aveva liberato davvero e sta lì a due centimetri è vergoglioso io non ho capito non so come si fa a difendere un personaggio così sai che io sono convinto che Kizaru sia molto miope e quando spara spara a caso lì ha preso la chiave lui voleva spararsi in Goku secondo me come minimo ma va vecchio del merda ma va in pensione invece ha colpito la chiave ah la chiave preparatevi ah no la chiave e qua c'è Mr. Free che appare dal nulla e qui grande scoperta scoperta di un grande personaggio che ha cercato di uccidere Ace prima eh sì perché lui era uno delle due guardie che lo stava uccidendo quando poi è arrivata la bordata di Haki esatto e quindi Mr. Free era lì per uccidere Ace che grande voleva intascare la taglia cos'è successo all'improvviso ho perso conoscenza eh tre che cosa ci fai tu qui vi giustizierò con le mie stesse mani gom gom ehi tre proteggi Ace col tuo muro eh cos'è quella cosa ah gigant pallone boom e fa il pallone candle wall e quindi si fa il muro si è ingigantito il patibolo sta crollando ricordiamo che si chiama il patibolo questo capitolo qua in loving memory of patibolo che cos'è successo Ace non è ancora morto con l'orologio esatto ma come stiamo cadendo ti faccio una chiave così gli puoi togliere subito quelle manette va bene capitano buggy quello è il nostro fratello free perché quindi manco lo sapeva buggy che era andato là sopra che fuori ma no lo sapeva eh ma ci avrà i suoi trascorsi voleva uccidere Ace adesso lo sappiamo noi che era lì proprio per giustiziarlo sparate fate saltare in un'area intero patibolo e poi gli diamo la motivazione mister tu assicurati di andare a salvare il tuo fratello se il motivo per cui sono qui è piangere un mio fratello defunto rideresti di me certo che no salva tuo fratello cappella di paglia oh no Sengoku oh no oh no oh oh chi c'era stato è stato grande Sengoku che ovviamente aveva Mr. Freely di fianco non si è accorto che mancavano dei suoi uomini grande Aki dell'osservazione grande bravo il pomio di fuoco era nella forma tangibile non può essere ancora vivo c'è un tunnel di fuoco dalle fiamme dell'esplosione sei sempre il solito Rufy non mi ascolti mai e sei sempre avventato è il grande comandante di Men tra l'altro sì vero 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 il grande comandante di Men 572 The Times they are changing i tempi stanno cambiando eh sì canzone di Bob Dylan qui devo ammettere è una bella scena quando poi vedremo Rufy e Ace combattere assieme quello è bello l'ha fatta bene se l'ha giocata bene eh sì Ace pugno di fuoco è stato liberato sì ce l'ha fatta cappello di paglia ci siamo ripresi il nostro Ace c'è riuscito da Ippel Downing poi è stato davvero temerario è un vero uomo d'azione ma quel tipo lui ha ucciso un Lapin si è fatto la pelliccia di Lapin bastardo infame è vero maledetto va lì come Ace Ventura e tirargli il pugno e poi metterti lui godino l'uomo l'uomo della Monopoli e l'uomo della Monopoli non abbassare la guardia Rufy sì colonna di fuoco hey son Rufy Kuhn state attenti sono forti puoi combattere Rufy certo e il pugno di fuoco ai poteri del roghe del fuoco non lasciatelo scappare mai avrei sognato che sarebbe arrivato il giorno in cui tu mi avresti salvato grazie Rufy beh il vecchio Baffi Bianchi e i suoi mi hanno aiutato cos'è che hanno quello che ci scriviamo tutti esatto le ha fatte il re abbiamo già detto le ha fatte ex novo qua nel 2023 ha passato tre settimane a rileggersi Maripold in giapponese a tradurle quindi mesi non settimane mesi non mesi sono indietro la cosa dell'altra non pensate di poterle lasciare passare a liscia dice questo è il luogo in cui sarete giustiziati che tutti sparano proiettili ovviamente senza ambizione passano in mezzo ma anche le spade vedi l'immagine sotto tagliato a metà di grazia esatto lui mio fratello vi chiedo di lasciarlo in pace e pugno di fuoco e schianta gente che bel legame che hanno create una via di fuga per entrambi eliminate subito pugno di fuoco e cappello di paglia ecco questa qui è carina loro due di fianco comunque si si molto schierati così dai sei sempre più forte Rufy un giorno supererò anche te Ace Ice Block questo giorno qua tra l'altro perché esatto ammiraglio pagiano blu è lui ora ti proteggo io stai indietro Rufy Fesan Bic fiamma specchio e qua i due colpi si annientano eh vabbè attenzione che gaff in mia presenza per giunta cioè quale gaff non viene fatta in sua presenza tra l'altro ci sarebbe da chiedersi che è meraviglioso l'ha fatta lui non è in tua presenza l'hai fatta tu l'hai distrutto tu il patibolo non hai mosso un cazzo di dito in dieci secondi che c'hai davanti uno comunque attenzione per chi vuol fare anche i paragoni di forza con quello scontro fiamma ghiaccio che finisce in parità ma quelli sono due poteri elementali non c'è scontro di Aki cioè per questo Ace finisce in parità con lo scontro con il fumo di smoker ad ara basta per dire non c'entra nulla quello esattamente se non per vabbè uno scontro che è impari che ci sarà poi ma quello è un discorso di logica di One Piece la lava il magma mangia il fuoco questo è una logica di One Piece e quindi la stessa cosa potrebbe succedere se si scontrassero il ghiaccio di Aokigi la neve di Monet magari Monet subisce ustioni da freddo perché il ghiaccio il frutto di Aokigi viene dichiarato e sarà la versione più potente di però quella è una logica di One Piece esatto lasciamoli andare così da ora in avanti sarà più interessante non dire idiozie non fatevi prendere dal panico non se ne andranno da qui a Mireille Sakazuki a che unità appartiene questo traditore no è un evaso che si spacciava per uno di noi morto in terra spostatevi la nave del nemico si sta muovendo non avvicinatevi si sposta sulla terraferma grazie alle pale guardate c'è qualcuno a bordo babbo ragazzi andate via da lì penseremo noi al campo di battaglia arriva Skuard grande Skuard grande Skuard i pirati dell'arachno vortice coi forfanti non fare cazzate Skuard ha intenzione di restarci secco perché no dopo aver tradito il babbo anche se non servirà ripagarlo non riuscirei ad andare avanti se non lo facessi prendete Ace e andatevene da qui dannato Skuard non deve andare per forza così levami queste manette e Newgate ferma la nave con la mano eh sì ma che si è fermata la nave babbo non lo sai quanto sia orribile per un genitore veder morire i propri figli prima di lui Skuard non lasciarti trasportare la mia vita non è stata messa a rischio dalla tua singola coltellata la vita di tutti ha una sua durata abbiamo fatto quello per cui siamo venuti qui vecchio babbo non abbiamo più nulla da spartire con questo posto quello perché sto per impartirvi è il mio ultimo ordine da capitano ascoltatemi bene pirati di baffi bianchi l'ultimo? aspetta un attimo babbo non dire queste cose non la vogliamo sentire torneremo al nuovo mondo insieme d'accordo? babbo voi ed io ci separeremo qui ci separeremo qui uomini assicuratevi di vivere tornatevene sani e salvi nel nuovo mondo babbo vuoi morire qui? io sono un relitto del passato non c'è nave per me nella nuova era ma questo qui dovrebbe essere uno degli ex di Ace questo sì 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 tra l'altro qua per la terza volta nella saga di Marineford che è iniziata Newgate ve lo dice ok che oramai che il problema non è la coltellata me lo dice anche Newgate per la terza volta la pugnalata di sguardo esatto non sai quanto sia orribile no? che c'era stato così e lui ti dice che non è stata messa a rischio da una singola coltellata Newgate ne prende di botte a Rufi gli trapassa il cuore Crocodile la dà la basta non è quello che lo debilita era già segnato da prima la terza volta in tutta Marineford c'è gente che ancora oggi dice eh ma perché la coltellata di sguardo non è quella esatto e ora andatevene canaglie no babbo è un ordine del capitano dobbiamo andare vecchio babbo ah baffi bianchi e qui ripensa al suo passato un pirata a cui non interessano i tesori allora chiediamolo vorresti ehi Newgate è stato un lungo viaggio è l'ora di chiudere la faccenda Marina eh sì cinque sette tre il nome di quest'era è Baffi Bianchi il nome di quest'era è Baffi Bianchi tu concordi con questa frase di capitolo nel senso beh il capitolo ovviamente è altisonante anche per quello che verrà poi detto io avevi detto che il nome di quest'era è Big Mam addirittura ma l'era questa che si è appena conclusa si conclude oggi si conclude oggi è quella secondo te boh sì forse sì perché è Big Mam perché perché lei è figa è potente no venga io lo so nel senso io capisco ovviamente il titolo del capitolo chiaramente ma poi anche l'enfasi comunque viene così lui è l'obiettivo no certo dopo dopo Roger il pirata da superare è Newgate chiaro chiaro questo però l'ho trovato un po' indegno nel senso che eh alla fine l'epoca scorsa è stata l'epoca di Roger sì perché Roger ha vinto sostanzialmente no certo viene detto post-Rox è stata l'era di quattro grandi pirati che non erano definiti imperatori che erano Roger Big Mam Newgate e Shiki però da quell'epoca poi effettivamente Roger ha vinto ha conquistato il tutto ed è giusto che quell'epoca possa portare il suo nome ma Newgate non è che si è distinto cioè è l'epoca dei quattro imperatori e basta non c'è stato chi ha primeggiato sì ma infatti poi lo dice Esco lo dice no quindi è una strunzata sì no però dico sì per quel motivo qua sì 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 sono d'accordo è vero che ripeto è lui comunque quello da superare è chiaro viene detto a più riprese anche dagli imperatori stessi perché comunque anche da gente come Shakespeare però l'ho sempre giudicato c'è troppo fanservice come frase abbastanza però si sta vai proseguiamo ma ma Renfort è in pericolo fermate baffi bianchi ha intenzione di distruggere l'isola intera babbo babbo non possiamo lasciarti qui babbo torniamo indietro insieme babbo non avete sentito l'ordine del vostro capitano andatevena qui branco di diati e si incazza giustamente abbattete baffi bianchi ormai sta morendo e presto dobbiamo fare come ha detto il babbo babbo Ace preparatevi a salpare fate muovere la nave comandante Marco andiamo babbo grande ammiraglio Sengoku ora che non deve più preoccuparsi di Ace ha tutte le intenzioni di affondare l'intera Marineford insieme alla sua stessa vita c'è ammiraglio Garpe sta bene e si pulisce i pantaloni è giunta l'ora di porre fila a un'era non è così? capitano Baggi la lume a camera ha ripreso a funzionare benissimo rimettiamo in onda la mia magnificenza grande sto per andare a prendere la testa di baffi bianchi la proiezione cos'è successo a baffi bianchi dopo che l'hanno coltellato? sa sa prova i pirati alleati sono stati uccisi dopo che baffi bianchi li ha venduti si vede qualcuno salve a tutti sono Baggi il leggendario ancora lui tutti verso la costa non lasciate che i pirati scappino uccidete nel più che potete l'unico che affronterete sono io e boom di nuovo a una bordata e niente comandante Giosu nessuno gelato è ancora vivo è vero portiamolo via Blenheim ci servi tu per portare Giosu capelluccio cosa fai ancora all'impalato? Ace andiamo il vecchio sa quello che fa lo so non sto perdendo tempo voi fuori dai piedi e si inchina non devi dire nulla permettimi solo una domanda sono stato un buon padre? certo vabbè momento che ci sta correte correte verso la nave Ace San Lufikun andate davanti voi Jimbe voi siete dei bersagli e il vecchio desidera che sopravviva più gente possibile ci siamo presi una nave da guerra tutti a bordo spiegati Rufy a Milaglio Sakazuki pensano davvero di potersene andare i miei migliori auguri il patibolo è stato distrutto che cosa è successo ad Ace? fateci vedere Buffy Bianchi attenti è Cane Rosso buah dimove il pugnazzo che branco di codardi che sono i pirati di Buffy Bianchi liberano Ace e poi si ritirano immediatamente ma con un capitano del genere non posso biasimarli dopo tutto Buffy Bianchi non è altro che un perdente della vecchia era Ace si triggera Ace perdente tra l'altro c'è il suo uomo ciao Angelo sono mazzate sono mazzate ritira subito quello che hai detto no Ace non fermarti Ace appena insultato il babbo Ace che avrei detto di errato Buffy Bianchi è un eterno perdente che non è mai riuscito a diventare il re a causa del tuo vero padre Roger è stato solo capace di farsi adorare una banda di straccioni facendosi chiamare babbo e giocando la famiglioia alla famigliola che naviga per i mari finiscila ha regnato nei mari per decenni ma non è mai stato ma non è mai diventato il re non ha ottenuto nulla alla fine è stato trafitto da un idiota che ho preso all'amo e che lui chiama figlio e che ora morirà per proteggere lui e tutti gli altri davvero una vita vuota non sei d'accordo basta non farti provocare Ace vieni via il babbo ci ha dato un posto dove vivere che vuoi saperne tu della sua grandezza se un uomo non vive nella giustizia allora non ha nessun valore voi pirati non avete bisogno di un posto dove vivere Buffy Bianchi morirà da perdente ed è proprio quello che ci che ci si aspetta da un cumulo di rifiuti Buffy Bianchi è il più grande pirata di quest'epoca dimmi se questa scena non è quella fra Pitone e Harry Potter ah sì certo mio padre era un grand'uomo no tuo padre era un maiale esatto però l'imbruttita di buggy dell'ultimo capitolo può essere stesa anche a Newgate se tu non sei un pirata sei uno che volevi una famiglia e ti retiri per gioia come pirata è vero non osare prendere in giro l'uomo che mi ha salvato il nome di quest'epoca è Buffy Bianchi fermati Ace Ace si ustiona è lì Ace Ace è stato ustionato non avrai abbassato la guardia solo perché sei un roghi sei solo fuoco tu io invece sono il magma che consuma il fuoco il mio potere è gerarchicamente superiore al tuo Ace ehi Rufikun hai raggiunto il limite la vifrecard di Ace Gold Roger il re dei pirati Dragon il rivoluzionario è già spaventoso che i loro due figli siano fratelli giurati il sangue che vi scorre nelle vene è di per sé un peccato mortale non importa chi riuscirà a fuggire l'importante è che voi due non lasciate questo posto osserva ehi aspetta Rufi e plocce e lì splatti la morte di Polgas di Ace esatto ragazzi stateci logica del manga di Aichiro Oda ci sono frutti più potenti che mangiano il potere di quelli più devoli che vi devo dire ecco così non fate il discorso delle fiamme blu però sono più calde c'è entrangato ci mancano uno due tre quattro cinque sei sette capito abbiamo finito mamma mia ce la possiamo fare ce la possiamo fare no no ce la faremo mai sì ce la facciamo sette e mezza sette e mezza è stato colpito fermate cane rosso fuoco gente sconvolta tutti presi male e il cane non si è fatto niente non si riesce proprio a fermarlo respiri ancora fermo basta così e Jimbe ferma anche lui Jimbe che sollievo sono salvo Mr. Free pensa a togliermi queste manette dice Marco smettila di prendere tempo Jimbe come ex dei sette corsari conosci bene i miei poteri se posso guadagnare del tempo mettendo a rischio la mia vita allora la metterò completamente in gioco dice ammiraglio Garp che sta che stai facendo Garp e lo pianta giù eh sì ecco bravo tienimi fermo Sengoku altrimenti io Sakazuki lo ammazzo idiota sono necessarie anche misure punitive contro i traditori dice a Kainu Jimbe abbassati e arrivano Vista e Marco necessarie ah no scusa è un'altra citazione necessarie comandanti Vista e Marco gente con l'ambizione ma che no e questa scena qua ancora è da capire è abbastanza abbastanza questa qui è ancora da capire eh ma non ci sarà da capire sono errori di gioventù di Oda può essere può essere un attimo di ritardo che rimpiangerò per sempre dice Vista non lo vedete che è troppo tardi per pugno di fuoco porca miseria dice Marco preso malissimo Ace Rufi mi dispiace Ace dobbiamo ricucirti in fretta mi dispiace se ho mandato all'aria il tuo salvataggio di cosa stai parlando non dire scemenze qualcuno richieda richiuda richiuda a queste ferite aiutatemi con Ace presto qua giù dottore ha bisogno di cure immediate sì sarebbe inutile lo capisco da me che ormai la mia vita ha gli sgoccioli mi ha bruciato le viscere non c'è più nulla da fare quindi Ace ascoltami Rufi che stai dicendo Ace non stai morendo no tu me l'avevi promesso l'avevi detto te lo ricordi mi avevi promesso che tu non saresti mai morto come Richard sì ma sai se non fosse stato per Sabo e se non avessi avuto un fratellino come te a cui badare io non avrei non avrei mai voluto vivere se Gold Roger avesse un figlio allora dovrebbe essere giustiziato d'altronde nessuno mi voleva quindi che scelte avevo lo farai infilzare con un ago per ogni persona del mondo che prova rancore per lui per Roger dovrebbe essere messo a rogo così il mondo intero potrebbe guardarlo e deriderlo mentre muore e direbbero tutti la stessa cosa te lo meriti il sulcidio di Ace esatto no il momento più basso è la menzione di Sabo per la prima volta qua nel manga e la sua introduzione effettiva che comunque è un personaggio migliore di Ace e beh quello si a me cioè nel senso vabbè Oda l'ha detto ma lui doveva morire che dovevo fare dovevo anche sprecarmi a caratterizzarlo infatti viene caratterizzato poi nel flashback dopo che è morto ci sta io so quali sarebbero le sue ultime parole mi dispiace tanto essere nato ma sono un rifiuto umano ma tanto non esiste Ace hai di nuovo combinato casino in città sta zitta se ne avesse avuto la forza li avrei uccisi tutti ma che dici presente se mai un giorno dovessi rivedere da Dan beh salutamela perché quando sai che stai per morire anche una come lei riesce a mancarti ho solo un rimpianto non potrò vedere la fine del tuo sogno sottolineato qua dal giappone si ho visto che l'hai messo in grassetto infatti ma so che c'è da farai fratellino mio perché ricordiamo che lui lo sa eh sì uno dei pochi insieme a Mugiwara che comunque lo sa esatto come ti ho giurato tanto tempo fa ho vissuto la mia vita senza pentirmi di nulla stai mentendo Mugiwara no non sto mentendo pare che alla fine quello che volevo davvero non fosse la fama ma una risposta alla domanda riguardo al se fossi dovuto nascere non riesco più a parlare Rufi quello che sto per dirti dillo a tutti gli altri babbo ragazzi e tu Rufi la ricorda vieni fuori sono qui per prendere la testa di baffi bianchi Newgate piange anche se sono stato un buono nulla per tutta la vita anche se in me scorre il sangue di un demone ehi ti salveremo ad ogni costo non ti azzerrano a mollare grazie per avermi amato Arigato Ace e qui cambia il sorriso è che questi qui sono le due spillette del cappello esatto così una triste così una milice e cade Ace vecchio mi chiedo se sarei dovuto nascere credevi che fossi morto sì perché ma cosa piangi non uccidere le persone senza loro permesso idiota te lo prometto io non morirò mai posso forse morire lasciandomi alle spalle un fratellino debole come te e questo è carino perché in realtà prima c'era stata la menzione della promessa di Ace no? che non sapevi qual era che poi è questa guarda che hanno fatto da Pico Ace se fosse stato un maschietto quindi è deciso il lobe di questo ometto sarà gol di Ace rabbia senza parole 575 eh sì eh sì di nuovo lo sapevate? quando si beve dalla stessa tazza si diventa si diventa fratelli da oggi in poi noi siamo fratelli non può essere vero Ace e 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 è morto ma poi questi questi sono i sono degli spettatori sì che è sta roba qua boh vabbè erano ormai dentro nelle enfasi stavano godendo ma ruffitilta giustamente cappelluccio di paglia oh no ha avuto un collo psicologico rischia di essere ucciso la faccia di gimme qua è bellissima e arriva guarda guarda che eleganza questo vestito di magma modello giudizio è bellissimo è bellissimo modello giudizio modello numero 4 giudizio esatto è canne rosso ora tocca a te cappello di paglia non ti prenderai la vita di questo ragazzo comandante Marco è stata anche gentile gli ha lasciati parlare era lì che gli poteva ammazzare tutti e due gli ha lasciato mezzo capitolo per parlare assieme cioè infatti ce li ha concesso veramente anche le ultime parole gentil uomo porta via il fratello di Ace Jim ricevuto la sua vita è ciò che resta della volontà di Ace noi la proteggeremo in suo nome cerca di riprenderti Rufficun se morisse sarebbe un disonore per i pilati di baffi bianchi pensavo di avere già detto che non avrei lasciato scappare nessuno dei due fratelli cane rosso San faccia attenzione arriva il bianco e lì il combattimento è leale eh assolutamente alle spalle addietro farà capo al collo e lo schianta il babbo è su tutte le furie dobbiamo andarcene da qui cane ah hai lasciato un balloon vuoto eh sì ho visto ho visto ho visto ho visto ho segno prendo a vedere va bene non sarà fatto niente cane infernale e plops gli sflacella la testa via ah babbo e va lo colpisce con un pugnazzo potentissimo sul fianco abbordata nelle costole Marineford crolla ah sta crollando il quartiere generale della Marina sta crollando oh maledetto baffi bianchi a Miraiosakazuki e lui cade va sotto nelle nelle profondità del crepaccio tra l'altro figa è bello bello profondo non mollare prendi la mia mano babbo il babbo ci ha completamente isolati da lui la piazza è stata divisa a metà tutti i pirati sono dall'altra parte babbo ha perso metà della faccia e ha ancora questo potere e ancora non è finita babbo Ace piangerete quando saremo a bordo presto salite tutti sulla nave ogni nave disponibile raggiunga babaya salome non posso fare a meno di preoccuparmi per Rufy vediamo Newgate colpisce la famosa scena in cui Akainu si è cagato sotto nell'anime ah giusto nell'anime nell'anime Akainu che si chiama Newgate colpisce ma viene anche ma viene anche sbattuto tipo per aria nell'anime tipo lo prende sì cose strane eh ehi ma che diamine è quello c'è qualcosa la tua scena Gabriele la tua scena c'è qualcosa che si nasconde dietro la fortezza nel quartier generale ah beccato eh lui no è impossibile e non l'è da solo chi c'è nella zona delle esecuzioni oh finalmente me ne siete accorti voi come diavolo siete arrivati qui ma che meraviglia tutto ciò ha dell'incredibile bastardo i pirati di barba nera finalmente vi ne siete accorti e poi infatti fanno vedere Sengoku non si era accorto di un cazzo esatto i pirati di barba nera sì ah 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 non ce la fa non ce la fa un po' la gola dopo tre ore e mezza eh che maniera ricordiamo che qua in realtà c'è anche Benson e Sgarbi eh ci sono ne è passato di tempo sono felice di vedere che non sei morto babbo in effetti pensa si crepava prima eh infatti non se lo prendeva più infatti 576 il grande pirata Edward Newgate eh ragazzi questo titolo ci sta ci sta sono quattro ore che leggo ho le corde vocali che mi fanno un po' malino non sono da lo faccio io eh sì meglio perché non so se riesco a farlo giusto mi muovono quelli sono indubbiamente i detenuti condannati a morte del livello 6 di Impel Down perché sono qui quelli sono i peggiori criminali del mondo ognuno di loro è stato così brutale in passato che la sua esistenza è stata cancellata dalle cronache e gente a cui non dovrebbe essere permesso di rimettere piede nel mondo nemmeno per sbaglio non esiste altro essere vivente così grande ah oltre avermi visto mi hanno anche scoperto il pirata San Juan Wolf la corazzata gigante ricordiamo che tranne Pizarro Wolf Caterina Devone Vascociotto già erano menzionati a Impel Down come tre pirati di quelli più terribili della storia esatto esatto il re del malgoverno Avalo Pizarro il re del malgoverno è italiano chiaramente eh sì chiaramente italiano e certo mi era mancato questo libero mondo corrotto miau parla di di una cosa molto buddista in questo caso ho parlato più il libero mondo che è ciò che puntano i buddisti e poi lo definisce corrotto perché lui è un malgoverno ah ok è una cosa che la mala sanità il malgoverno esatto Vascociotto l'ubriacone top 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 sicuro che possa ucciderli tutti la cacciatrice di nuove lune Catalina Devone anche questo l'hai riadattato perché dalla luna crescente intesa come luna nuova fase lunare giusto il senso è dovuto mi sa al fatto che lei cerchi le donne belle e le tagli le teste quindi cerca le lune nuove perché ho trovato questa similitudine tra l'essere luna nuova ed essere una donna praticamente che ha avuto un che è nel suo splendore ok ah ok c'è un'espressione in comune in giapponese ho fatto delle ricerche sì ho trovato dei punti in comune quindi c'è probabilmente una di quelle cose che appunto tu lo legge in giapponese e puoi capire i doppi significati bravo bravissimo bravissimo e finito è accostato alla cerca di lune nuove come di nuove ragazze esattamente nel fiore degli anni ecco diciamo esatto esatto ok ok buono bello anche voi mi piacete il capo carceriere di Impel Down sciglio la pioggia cosa diavolo sta succedendo sciglio bastardo che ne è di Magellan e che fine ha fatto Impel Down come siete arrivati fin qui lo vedrai più tardi comunque io ora collaboro con questi ragazzi quindi passo e chiudo grande ammiraglio Sengoku non ho avuto modo di informarla ma poco fa la porta della giustizia si è aperta nuovamente ed è passata una nave da guerra non autorizzata quindi sono stati loro che diavolo sta succedendo la sala macchina è riservata al personale della marina e non ci è stato e non ci è stato riferito nulla di anomalo scusate per la semplicità della storia ho ipnotizzato il marino e la sala macchine prima di salpare dicendogli di lasciar passare ogni nave da guerra che avesse visto passare davanti alla porta della giustizia mi sa di essere stato utile anche ad altre persone eccolo lì in quanto pirata sei considerato un nemico dal governo è quindi impossibile aprire le porte della giustizia e infiltrare sempre il down questo è l'unico motivo per cui mi sono fatto avanti come membro dei sette corsari infatti ora quel titolo non mi serve più quindi il tuo obiettivo era liberarli esatto era il mio scopo sin dall'inizio e c'è dell'altro vedrete teach attento capitano però vedi la fita ha ipnotizzato uno a Marineford a Marineford non a Impel Down quindi prima quando hanno ricevuto la chiamata sono andati a Marineford poi se ne sono andati là esatto e via esatto nessuna pietà eh c'era da aspettarselo sei l'unico che non posso considerare un figlio teach hai infranto l'unica regola ferrea della mia nave hai ucciso uno dei miei uomini babbo non interferire Marco ops per il rimorso che provo per il comandante della quarta unità such prenderò la vita di questo idiota e mi farò perdonare è proprio quello che voglio black hole such è morto ed anche Ace è morto babbo ti ho risparmiato no ti ho rispettato e ammirato dal profondo del mio cuore ma sei così vecchio che non puoi nemmeno salvare uno dei tuoi subordinati che sta per essere giustiziato e dire che sull'isola di Banaro l'avevo risparmiato per te quel bastardo che cos'è quella roba nera che peccato non servirà a nulla tutti i poteri sono inutili di fronte a me vortice oscuro che ne dici niente più terremoti vero questa bellissima imbruttita sì bellissima schiantato segato cazzo che male eccesso di fiducia imprudenza sono queste le tue debolezze no fermati babbo babbo fermati sono tuo figlio non dovrai mica uccidermi ve lo schianta dannato mostro sei praticamente già morto vuoi chiudere il becco e andartene finitelo ecco qua un'altra bella scena comunque e lo sparano esatto cosa volevo vedere l'arma di Vasco ah usa anche lui una pistolettata la pistola la pistola perché lui dovrebbe almeno se teniamo fede alle parole dette là dovrebbe combattere con tecniche incendiarie e via via dell'alcol che c'è Pizzarro che gli dice se vai tu incenderai tutta la città no esatto babbo sì forza scusa si riesce a capire che cazzo usa la fit no vero secondo me lui usa il bastone eh ma allora credo che sia tipo a due mani così in avanti sì e a due mani così quindi tipo se avesse tipo calato un colpo dall'alto no per me usa il bastone eh in teoria potrebbe però capiremo eh vabbè io sono sempre sempre curioso di quella falce a due a due lame di vera morte vera morte infernalissimo forza riduciamolo un colabrodo e qui ripensa al passato ecco lì stai morendo roger in realtà no ragazzi in realtà no la più grossa bufala di tutta la storia stava benissimo esatto già non mi manca molto vuoi che ti dica come arrivare a laftail baffi bianchi anche se tu lo facessi non ci andrei non mi interessa non è un pirata ricordiamo esatto lo sai come mi chiamano quelli del governo ultimamente gold roger ma hai sbagliato io sono gold di roger infatti anche questa cosa qua l'abbiamo fatta notare a più riprese gold roger nasce dopo che lui riceve il titolo di re dei pirati infatti lo dice anche qua ultimamente insieme alla creazione di questo fantomatico nome one piece per il tesoro esatto ogni tanto capita di incontrare persone con una D nel nome nella mia famiglia ce n'è uno che si chiama Ticcia qual è il significato di questo D? oh vuoi saperlo? va bene te lo dico e guardiamo il diario di Ode una volta arrivati alla fine del viaggio abbiamo scoperto tutto anche appunto della D si scopre là eh sì tanto tempo fa e si interrompe ah ho finito i proiettili non sei tu sei ancora vivo l'uomo che Roger sta aspettando usa il presente qua se non altro Ticcia non sei tu eh così come c'è chi porterà avanti la volontà di Roger ci sarà anche chi porterà avanti la volontà di Ace anche se si spezza la linea di sangue la loro fiamma non si spegnerà mai e questo è importante perché il concetto di volontà non è legato al concetto di linea di sangue una volontà può essere ereditata da chiunque altro in teoria esatto 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 è così da molto tempo si tramanda di generazione in generazione e un giorno nel futuro apparirà qualcuno che sfiderà questo mondo facendosi carico di tutti i secoli di storia Sengoku voi del governo mondiale avete paura di un'immensa guerra che un giorno coinvolgerà il mondo intero a me non interessa ma quando qualcuno troverà quel tesoro il mondo finirà per capovolgersi verrà il giorno in cui qualcuno lo scoprirà il One Piece esiste davvero bastardo dici 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 però vedi si galvanizza comunque anche Tic per questa roba qua eh sì nonostante gli abbia detto non sei tu esatto però lui se ne frega di quello che dice a me non me ne frega un cazzo delle critiche però è bella è bella la faccia di Sengoku prima quando gli dici voi vivete nel terrore di sì è vero lì si è sgommato eh in teoria lui dovrebbe sapere qualcosa però vabbè sapere che Sengoku eh sì sì capiremo capiremo perdonatemi figlioli vi ho lasciato un pazzo efferato per me è finita voi mi avete dato tutto soprattutto un pirata a cui non interessano i tesori e allora che diavolo vorresti ehi Newgate una cosa che desidero da quando ero bambino e cos'è sentiamo una famiglia ma sei serio vi sono davvero grato addio figlioli e qui chissà dovrebbe essere magari il periodo rox e probabilmente o magari prima capiremo poi se vedremo com'è andata la vita prima del David Beck fight chi lo sa speriamo sempre nel David Beck fight però non si sa se si sa vedremo è morto in piedi baffi bianchi è morto persino nella morte nonostante abbia perso metà della testa il suo corpo non cede l'immagine di un vero mostro in grado di sbaragliare qualsiasi nemico nel corso di questa battaglia ha subito un totale di 267 colpi di spada e ha incassato 152 proiettili e 46 cannonate ma nonostante ciò né sulla sua orgogliosa schiena né sulla sua vita da pirata ci sono ferite dovute a una fuga bam eh sì dai ultimi 4 doc ce la possiamo fare ah sì 577 eh sì adesso si velocizza un grave incidente che non fa che peggiorare la grande news si diffonde rapidamente in tutto il mondo i pirati di baffi bianchi hanno fallito il salvataggio del figlio di Roger Ace e il loro capitano è morto coloro i cui occhi hanno assistito a questo storico evento che sarà raccontato per anni a venire possono solo restare in silenzio e così te ne sei andato baffi bianchi non mi immagino le risate di crocus a casa sicuro col maxi schermo l'uomo che un tempo rivaleggiava in queste acque con il re dei pirati il capitano dei pirati di baffi bianchi il grande pirata Edward Newgate detto baffi bianchi è morto nella grande è morto nella guerra per la supremazia dalla flotta pirata di baffi bianchi e le forze congiunte del quartiere generale della marina e dei sette corsari che ha avuto luogo nella baia di Marineford sguardi lo flamingo felice il kuma il marco il crocodile il mio e moria e qui vediamo non perdetevi d'animo tra lì sulla nave avete dimenticato gli ordini del capitano dai Jim porta qui il fratellino di Ace sì forza si comincia vogliono ancora fare qualcosa dannato Teach che vuol fare con il cadavere del babbo vi mostrerò il miglior spettacolo di sempre cos'è quel telo nero barba nera e baffi bianchi sono al suo interno cosa diavolo state facendo ora se volete scusarmi vorrei chiedervi di stare alla larga da qui non vedo l'ora se fallisse o uno per la sua strada dove vai capitano Baghi me ne sto andando razza di babbei senza cervello tanto ormai non posso più prendermi la testa di baffi bianchi ho fallito alla fine avevo persino troppa paura di avvicinarmi a lui se pensate che io sia patetico avete ragione mi saluto tutti dannati idioti sono un debole i baffi bianchi faceva troppa paura la vetta fa troppa paura bella questa qua anche col senno di poi la vetta fa paura la vetta fa paura quando devi scalzare uno dalla vetta perché comunque lui lo dice quando dice ma tu pensi che noi andiamo contro questi qua gli dice ma stronzi l'importante è che arriva primo esatto esatto quindi quello ci sta il capitano Baghi sta piangendo ma certo i nemici di ieri sono gli amici di oggi in men che non si dica ha avuto pietà per il suo rivale baffi bianchi avrebbe potuto prendersi la sua testa quando voleva invece lui se ne va senza voler dare alcuna spiegazione aspetta portaci con te lui sei il nostro capitano Baghi capitano presto verso il mare lo ti cuneo è fantastico esatto tieni duro devi vivere anche in un mondo dove i san non c'è più giorno dopo giorno fuoco tu devi tenere duro devi vivere e Jimbe ripensa in Pelldown Jimbe ti chiedo scusa ma se dovessi morire così dovrai badare a mio fratello ribadisco i san non mi lascio abbindolare non sono un ingenuo non mi interessa se è tuo fratello in un mondo di pirati io aiuto e proteggo solo le persone a cui mi affeziono e tradisce pure il se stesso i ideali tradisce anche se cazzo davvero proteggi mio fratello se io dovessi morire no perché mi hai preso proteggo tuo fratello esatto Jimbe da questa parte sì maledizione hanno congelato il mare sbrigatevi a fare qualcosa non possiamo salpare tratte e te fa già uno blu e arrivano arriva 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 anche il cane che spara e qua dopo un capitolo e mezzo esatto tenete conto che sono in realtà pochi istanti pochi istanti esatto quello che è successo ecco lui se dico che non ti lascerò andare devi rinunciare a vivere idiota cane rosso ma non è nello sistemato avrà fuso il sottosuolo per tornare in superficie dice la big mamma lì esatto sì ora consegnami il figlio di dragon non è una buona idea sono intenzionato a proteggere quest'uomo a tutti i costi beh allora non te lo chiederò due volte proteggiamo il fratello di ace cosa ha poi questo qua tipo un cagnolino fatto di di pezzi intorno al petto ma anche maledetti si uccidono tutti gli animali per farsi le pellizze eh quello il cugino di Gotti eh sì esatto esatto lui è lui la famiglia di ace è la nostra famiglia fatti da parte Jimbe io non permetterò che posi un dito su cappelluccio hell wink uno dei personaggi preferiti del mio cugino Ivan Kovic capisco perché eh sì ci sta salute il mio cugino che è una vita che non lo sento figaro ti dice ok saluto barba nera sta uscendo cosa diavolo stava facendo ma che su baffi bianchi non c'è nulla di diverso eppure barba nera non ha nulla non ha nulla di particolare marina per il dito del re che punta eh sì ora io vi svelerò il mio potere ci saremo di nuovo nemici sì black hole ma che questa è l'abilità dovuta al mio frutto buio buio mentre questa quella posa e spacca tutto eh sì è l'abilità del frutto trema trema ma quello è il potere del frutto del defunto baffi bianchi come può averlo lui mi raccomando guardate questa immagine perché non è Newgate ad aver distrutto Marineford no esatto è un falso storico un effetto Mandela esatto l'abilità sismica del babbo ma che diavolo significa maledetto ticce la forza traente dell'oscurità che annulla ogni cosa e la forza sismica che distrugge ogni cosa ora che nelle mie mani non ho più rivali sono io il più forte infatti appunto ha l'effetto bollitte non so cosa abbia fatto ma si è preso i poteri di baffi bianchi com'è possibile allora la minaccia del frutto trema trema non è ancora svanita se ricordo bene dovrebbe essere impossibile ottenere due abilità da un frutto del diavolo ecco qui la spiegazione vai con i tuoi nuovi dialoghi tradotti un normale essere umano non sarebbe mai in grado di farlo ma come ben sapete ticce un po' diverso la sua struttura corporea è strana sarà quello ad aver portato questo risultato è qua noi archiamo comunque le mani io ho incollato i kanji su google sai cosa mi è venuto come risultati il film di alien ah no lo xenomorfo mi dava lo xenomorfo è uno xenomorfo mi dava l'alien di alien lo xenomorfo con gli stessi kanji anche perché poi comunque tenete conto che sono saltate fuori cose anche nuove negli anni ad esempio anche tanto per dire orso bartolo è una nuova ratta a quanto pare strana particolare la sua struttura corporea è particolare lo rende probabilmente più resistente non sappiamo in cosa però così è stato quindi questa cosa qui nel senso che magari lui l'ha pensata anche in un modo all'inizio magari rimanendo spera fedele quantomeno questo dialogo potrebbe anche cambiarla introducendo ad esempio questo qui orso bartolo è una sorta di meticcio di quella famosa razza parte e magari invece etic tra virgolette puro di questa nuova razza invento vi sto dicendo una cazzata ma per dire potrebbe inserire nuove cose nel discorso cercando di rimanere coerenti con quello che avevo detto infatti sono d'accordo allora quindi è uno xenomorfo mi dici è uno xenomorfo è uno xenomorfo bene ci sta dove ha fatto la teoria nuova teoria nuova beh l'avete visto si ha fatto uscire una delle manine quella lì che si attaccano su un new gate gli ha aspirato il frutto infatti sai che i xenomorfi prima sono questa la fase larvale sono questa no hanno questa manina è vero si 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 attaccano alla faccia entrano da dentro e poi esce il colpo dice l'avete visto allora raccontatelo al mondo intero noiosi cittadini amanti della pace marine governo mondiale e anche voi pirati il futuro di questo mondo è ormai deciso già da ora in avanti sarà la mia era e tutti felice contenti insomma eh in un certo senso questi due anni a meno comunque anche di assenza cosa sono stati un po' gli anni di teach perché eh si se pensi che Kydebibans sono rimasti fermi si è preso il territorio di Newgate ha sconfitto l'ex turma ha preso il titolo di imperatore adesso è andato a caccia dei frutti eh sì cioè gli altri sono stati molto statici in realtà eh sì 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 assolutamente è quello che diceva l'ONU a Doflamingo voi in questi anni siete rimasti fermi a aspettare mentre chi si è mosso si è mosso e teach appartiene comunque alla generazione peggiore no? ah beh sì sì sono le supernova di Sabaudi più teach la generazione peggiore quindi eh sì